Salve a tutti, siamo alla lezione numero 13. Solfeggi cantati con legature di valore. Ricordiamoci di prendere l'intonazione. Suoneremo la prima nota dell'esercizio con la tastiera e poi la canteremo con la voce. Quando saremo sicuri dell'intonazione di questa nota, canteremo l'esercizio. Ogni tanto, tre o quattro misure, controlleremo l'intonazione con la tastiera. Eventualmente si correggerà la voce. Esercizio numero 30. Do, do, sol, fa, sol, fa, mi, sol, do, si, si, lo, sol, la, sol, fa, mi, re, sol, mi, re, do, re, la, si, do, do, si, sol, lo, si, do, do. Esercizio numero 31. Sol, 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 la, si, do, 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 si esercizio numero 32 Do Mi Re Fa La Sol Sol Do Si Fa La Sol Mi Sol Do Si La Si Sol Fa Mi La Re Sol Do Do Re La Sol Do esercizio 33 Do Do Si Si La Si Do La Sol Fa Sol Mi Do Re Mi Re La La Sol Do Sol Do Si Si La Re La Sol Sol Fa Sol La Si Sol Do Si La Sol Sol Do Fa Re Mi Fa Mi La La Sol Fa Sol La Si Do Si La Si Sol Do Si La Sol Fa Fa Mi Mi Re Mi Re La Sol Do Si La Si La Sol Fa Mi Re Mi Re La Sol Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione